è uno dei piaceri della vita 11 01 31 7 812 partito 810 partito 810 partito 810 partito 810 partito 810 partito 810 partito 910 partito 810 Grazie a tutti. 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 Segretario della Scuderia Speed Down Project e membro attivo del nostro gruppo. Quindi un applauso a Vincenzo. Ragazzi, dai! Nono classificato, Biscomi Natalino. Ottavo classificato, Gesualdo Giuseppe da Roma. Giuseppe Maggisenese d'Ocma, vive a Roma. Settimo classificato, ci vorrebbe una ola pure qui, il nostro Corsaro Nero, noi l'abbiamo battezzato Corsaro Nero. Raffaele Verre, alias Corsaro Nero. Sesto classificato, Danizio Carmine. Non sono abituato a chiamarlo in questa posizione. Carmine, si esprime abbastanza bene in questa categoria, oggi avrà trovato qualche difficoltà. Comunque, complimenti a Carmine. Quinto classificato, Paone Vincenzo. Paone Vincenzo, quinto classificato. Appena sotto il podio, appena sotto il podio, se l'è fatto rubare nell'ultima manche dal suo compare. Si è fatto rubare il podio dal suo compare, all'ultima manche, il nostro Cristiano Antonio. Eccolo, il nostro Cristiano Antonio, il suo comparuccio, lo ha relegato alla quarta posizione nell'ultima manche. E vabbè, che comparuccio che hai. E per l'appunto, gradino più basso del podio, conquistato con 6 minuti 40 e 24, giusto per capirci i distacchi. Tonino, ho il piacere di annunciarti che sono un secondo e qualcosa, un secondo e nove decimi, eh? Nella somma dei tempi. Abbiamo Patrick Quincy, terzo classificato, con il tempo di 6.40 e 24. Premia Maurizio Carrozza, della Prologo di Sersale. Secondo classificato, qui praticamente sono attaccati, perché c'è la distanza di un secondo appena dal terzo classificato, appunto Quincy Patrick, il nostro dottore volante, Salvatore Mangone. Fino all'ultimo l'abbiamo lottata. Bene, bravo, Salvatore. E comunque sei a un secondo. Patrick ha un secondo da te e tu sei a... a meno di un secondo, salvatore a decimi, tre decimi, sei a tre decimi dal podio. Ci siamo, eh? Ce la stanno giocando tutta. Chi conferma, ancora una volta, campione italiano, campione regionale della categoria C8 nella scorsa stagione, mattatore continuo di questa categoria, il nostro vicepresidente Antonio Berre. Vince la categoria C8. Contagonista di un terza coda, se non sbaglio, nell'ultimo match, per cui ha rischiato di compromettere la gara. Ragazzi, categoria C8, go-kart da speed down, nascono apposta, vengono realizzati per l'uso esclusivo nello speed down. Grazie ragazzi.